Salve a tutti e ben ritrovati a Diarte. Quello di oggi è un incontro importantissimo perché inaugura una settimana altrettanto importante dedicata alla mostra Enigma, apertasi lo scorso 20 dicembre e conclusasi l'11 gennaio e insieme agli artisti, protagonisti della mostra, che sono cinque artisti di fama internazionale affronteremo e parleremo dei temi che affronta principalmente la mostra. Oggi vado a presentarvi il nostro primo ospite, Gianni Bucher-Schenker. Ciao Gianni, è un piacere averti qui con noi. Lui, insieme ad altri quattro artisti che ospiteremo nel corso delle nostre puntate in questa settimana, è protagonista di Enigma. Le sue opere sono esposte nella galleria comunale ex pescheria di Cesena e insieme alle opere di altri artisti. Ecco, vorrei chiederti Gianni, come si inserisce il tuo lavoro all'interno di Enigma? Dunque, il fatto che siano tutte sculture in legno vengono rapportate ad altre che invece sono tutte a colori. Diciamo che è un inserimento anomalo, però sta bene e accompagna il resto della mostra. Quindi per contrapposizione si affianca agli altri. La mostra Enigma è il compito, nasce da tantissime esigenze, da tantissime necessità. Una delle quali, ho letto, è proprio quella di, oltre a mettere in luce l'arte contemporanea, a fianco invece l'arte classica, perché queste opere sono affiancate appunto a due dipinti anonimi di un artista del 1700, ha il compito anche di mostrare come dalla materia possa nascere l'arte, come la materialità possa dare vita all'arte. Ecco, io ho una domanda che vorrei girare a te Gianni, perché essendo tu uno scultore di fama internazionale, aggiungerei, hai a che fare con la materia più degli altri, non con la plasticità. Come quindi dalla materia prima, quindi dal materiale, può nascere l'evento artistico? Come si può concretizzare un evento artistico? Beh, l'evento artistico si può concretizzare con del lavoro molto lungo, nel tempo, nei decenni direi, e usando materiali anche di un certo pregio. L'arte poi dopo deve essere quella che esce da quello che è l'artista. E il valore aggiunto? Il valore aggiunto, sì, io mi auguro sempre che ci sia, perché altrimenti vuol dire che non ci sono riuscito. Tu hai qui portato una delle tue sculture, che però è in terracotta. È in terracotta, che è uno dei lati del mio lavoro, insomma. Prima faccio le cose in terracotta, e poi dopo le realizzo in legno, non tutte naturalmente. Ok, quindi tu usi materiali come la terracotta, anche il legno principalmente. Principalmente, sì. Allora Gianni, io ho un'altra domanda che ti vorrei chiedere, che ti vorrei fare questa. Le tue opere sono esposte in tantissimi musei, sono state mostrate in tantissime gallerie e quindi fruite dal pubblico più vasto, non solo quello degli intenditori, ok? Se tu dovessi spiegare al tuo pubblico le tue opere, le tue sculture, dato che so che le tue sculture non hanno titolo, no? Da qualche anno metto dei titoli che poi prendo dalla mitologia. Ah, ecco. Perché tutti mi chiedevano che cosa volesse dire, e allora a questo punto... Benissimo. A questo punto è interessante perché la domanda si raddoppia. Da un lato c'è come spieghi al tuo pubblico, come spiegheresti al tuo pubblico le tue opere, di cosa parlano, cosa raccontano. Sì, è un lungo passaggio. Quando io ho cominciato, ben 45 anni fa, facevo cose molto figurative, ben precise, perfette. Poi col tempo ci si, posso dire, si evolve, magari non tutti la penseranno così, ma io sì, e quindi si finisce per tagliare quello che si considera superfluo per realizzare quello che è il pensiero, il concetto. Quindi anche in te c'è una... mi parli di eliminazione del superfluo, quindi una riduzione all'essenziale, no? Sì, esatto. Questo fa parte della tua ricerca, della tua sperimentazione, a cui lavori da tantissimo tempo, però mi viene in mente, a proposito del tema principale di Enigma, che è proprio quello di affiancare l'arte contemporanea, quindi l'arte presente di oggi, con quella del passato, con la tradizione più classica. Cosa che non è molto semplice oggi, no? Perché fanno parte di due mondi assolutamente differenti, sembra esserci stata una frattura colossale tra i due blocchi artistici. Quello che ti chiedo è, la scultura, in particolare la tua scultura, in generale la scultura, come si relaziona all'arte classica, alla scultura classica? Sì, beh, nel mio caso posso parlare, perché vengo dal classico. Cioè, io ho imparato un mestiere che ho portato avanti in tutti questi anni e da quel mestiere derivano le opere che faccio adesso. Io per gli altri non posso parlare, perché non è per tutti così. Cioè, oggi c'è molta improvvisazione, però non credo che sia un tasto da toccare in questo momento. No, possiamo anche affrontarlo, è proprio... Beh, ma c'entra poco con la mostra. Sì, dico però, come ti relazioni tu nei confronti della tua scultura, nei confronti della scultura attuale, di altra scultura e della scultura classica, no? Cioè... Ma io credo che si veda anche che c'è una derivazione classica nei miei lavori. Cioè, la capacità di lavorare, se non altro. Non tutti lo fanno, quindi io parlare della scultura degli altri sinceramente preferisco non entrare. Quindi tu, diciamo, nonostante la tua sperimentazione, la tua ricerca, non disdegni comunque la tradizione, no? Anzi... No, anzi. La riproponi. La ripropongo in un modo diverso. Quali sono i maestri che ti hanno influenzato, che ti hanno più segnato durante la tua carriera artistica? Ma... i romanici sicuramente. Perché da ragazzo mi piaceva molto Jacopo della Quercia. Poi dopo ci sono stati altri che mi hanno un po' ispirato. Però non più di tanto, perché sono sempre andato per la mia strada. Anche se poi dopo i critici mi hanno sempre pioppato qualcuno che magari non c'entrava niente. Però... Eh, quello lo si fa spesso, diciamo. Basta una vaga somiglianza. Esatto, un lapone di circo. Che poi facendo del lavoro di questo tipo è facile ricadere in quello che è già stato fatto da qualche maestro. Io spero di non averlo fatto, però può anche succedere umanamente. Certo, ovviamente. Per quanto riguarda invece i contenuti delle tue opere, tu tratti principalmente la figura, no? La figura umana, sì, la figura umana. Però non ci metto contenuti, li lascio così in sospeso. Quello a cui aspiro è di arrivare a fare soltanto l'anima. Un po' difficile. È un tuo progetto? Sì, è un'essenza tale da arrivare soltanto all'anima. Che poi è una cosa in contrasto, perché l'anima non è materiale e qui invece la scultura è sempre comunque una cosa solida. Certo, infatti. Non so se farò in tempo. Beh, io mi auguro di senso. Un'altra cosa è che tu hai realizzato delle sculture sotto committenza, no? Eh, sì. Eh, vedo dalla tua espressione un po' di rammarico. Infatti mi chiedevo, quando ho saputo questa cosa, la prima cosa che mi sono chiesta è che differenza c'è tra realizzare una scultura per te, non perché ti è ordinata, no? Quando l'anima di cui parlavi te lo comanda, che è principalmente quello a cui si attiene il lavoro di ogni artista, no? Realizzare principalmente per sé, poi per il pubblico, ma per una necessità interiore. Il fatto che ti sia stato commissionato, che differenza ha creato? E quando viene commissionato un lavoro non bisogna ragionare troppo perché altrimenti dopo non piace più. Questo per esperienza. Se uno vuole arrivare all'anima è meglio che lasci perdere gli altri lavori. Purtroppo nella vita solo con l'arte, l'arte pura non si vive e di conseguenza bisogna creare un apporto parallelo che ti dia la possibilità poi di fare le cose giuste. Però ecco, tu preferisci... Beh, adesso faccio solo quello che voglio io, per fortuna. Certo, ovviamente. Tu hai detto che l'artista per operare al meglio delle sue capacità, per non essere influenzato nel momento della sua creazione, debba eliminare tutto ciò che fa parte del suo ricordo emotivo, no? Tutto ciò che fa parte del suo... No, più che ricordo emotivo, no, anzi quello è meglio che ci sia perché fa parte del bagaglio culturale. Quello che avevo detto un tempo, che sarebbe meglio eliminare tutto quello che si è imparato a livello tecnico. Però, perché poi l'hai acquisito, perché se uno che non ha la tecnica non riesce a fare queste cose, quindi bisogna acquisirlo e poi mettono un momentino da parte. Ok, quindi ti riferivi più a un fattore tecnico che è personale dell'artista. Anche perché l'opera d'arte rispecchia fondamentalmente quello che l'artista è, no? Dovrebbe essere così. Nel momento in cui il ricordo viene abbandonato, viene eliminato, l'opera d'arte finisce con non parlare più dell'artista, mi pare ovvio. Tu ti chiami Gianni Bucher, hai aggiunto... Schenker. Esatto, perché? Perché ha il cognome di mia mamma e probabilmente quando io sono nato doveva essere lì anche lei, quindi mi sembrava giusto ricordarla nel mio operato, nel mio lavoro. Senti, ma come ti sei affiancato tu all'arte? Come hai iniziato a capire che l'arte sarebbe stato il tuo futuro, ma soprattutto è sempre stato il tuo mestiere? Sì, ho cominciato che non avevo ancora 22 anni. Ah. Dunque ho cominciato però a avvicinarmi all'arte perché mio papà dipingeva e dipingeva anche bene, anche se non ha mai avuto il coraggio di farlo di mestiere. E quando avevo 8-9 anni tutte le domeniche mi faceva vedere mostri dell'Ottocento. Quindi comunque già da piccolo hai avuto un imprinting? Ho insegnato a disegnare e quindi non potevo fare altro. E quindi hai sempre saputo che quella sarebbe stata la tua strada, no? Dai 15 anni in poi sì. Ti sei formato in accademia, hai studiato? Purtroppo dovevo lavorare, per cui mi sono fatto 8 anni di serale, di scuola d'arte naturalmente, e poi andavo a bottega da diversi scultori in modo da rubacchiare un po' da uno e un po' dall'altro. Quindi anche tu un approccio molto pratico, no? Sì, sì, per quello che ho imparato a lavorare insomma. Quindi è essenziale secondo te l'approccio pratico subito, anche parlando dei giovani, no? Sì, ne sono più che convinto. Cioè all'arte, perché oggi spesso questo approccio pratico che si aveva una volta si perde nel teorico. Purtroppo sì, ma poi si vede a distanza. Cioè magari riescono a sfondare a 20 anni, poi a 30 sono già finiti. Mentre invece un artista comincia a diventare maturo verso i 50, purtroppo. Bisogna avere pazienza per arrivarci. Quali sono i tuoi progetti futuri dopo Enigma? Ma ho in ballo diverse mostre nel 2015. Sono stato invitato, non so se a Brescia o Concesio, per una mostra su Paolo VI. E ci sto studiando, non è una cosa facile. Ci stai studiando? Sì, ho già iniziato un lavoro, però siccome voglio farlo a modo mio. Quindi anche questo è comunque un tema predeterminato a cui ti devi adattare. Sì, però mi devo adattare ormai con la mentalità di oggi. Certo. Non facendo una cosa figurativa così, giusto per piazzare un pezzo. E poi ho in ballo diverse altre cose interessanti. Se tornassi indietro, lungo il tuo percorso artistico, da adolescente che si affaccia all'arte per via di suo padre, comunque da studente, da osservatore in bottega, cosa cambieresti? Cambieresti qualcosa? Magari ti dedicheresti di più allo studio eliminando l'aspetto lavorativo che un po' ti ha frenato? No, no, no. O quello fa parte del tuo bagaglio? Prima non l'ho detto, mi ha sì frenato, però mi ha dato anche delle possibilità. Se io riesco a fare queste cose è perché ho un bagaglio tecnico abbastanza valido. Certo. Ecco, per cui se non lo avessi fatto, probabilmente non riuscirei nemmeno a fare quello che sto facendo. Quindi non c'è niente di... Non c'è, no, sì, magari brontolo qualche volta, perché ho passato del gran tempo a fare cose che non avrei voluto fare. Però fanno tutte parti del lavoro di uno scultore. Io penso che comunque sia un'esperienza che poi trapela nelle opere, quindi penso che ogni cosa sia... Sì, io mi auguro che si veda, sì, che si capisca questo. Penso che ogni cosa sia... abbia un suo perché e soprattutto quando si parla degli artisti e delle loro opere, penso che ogni cosa faccia parte della storia di ogni singolo artista. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Il tempo purtroppo è giunto al termine. Vi saluto, saluto il pubblico a casa e vi ricordo l'appuntamento di domani con un altro artista protagonista di Enigma. Ciao a tutti. Ciao a tutti.